Ciao a tutti, da Gabriele Ferro e da Mick Pozzo, che insieme siamo felici di partecipare all'iniziativa per la raccolta fondi su Facebook chiamata Live Performance per Lit Biella e vi portiamo negli anni 70. My brown-eyed girl, you, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing Shalalalalalalalalalala, it's just like that, shalalalalalalalala, it's just like that. Questo è solo un piccolo assaggio, chi ci voterà riceverà un video live inedito di un brano a sorpresa dagli anni 70, quindi via con le donazioni! Ciao!